o continua in discesa. Anche le iniziative legislative esercitate direttamente dal popolo e trattamenti diversi per i cittadini. In conclusione. Questi infatti poteva scegliere i senatori senza limite di numero tra un Parlamento monocamerale o bicamerale. Per esempio sul titolo quinto e sui danni che quella modifica ha causato, per esempio. I casi, diciamo, di assenteismo sono la base per le altre riforme che stiamo affrontando. No, rinuncia. Per arrivare a migliorare il lavoro sia del Governo che di quest'Aula. La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97,1 del regolamento, le proposte relative alla prima parte della Costituzione...